Prima la musica di sottofondo che già sulla porta ti avvolge, ti immergi in un'atmosfera magica, poi entrando nel salone il paesaggio diventa fiabesco e lo stupore davanti alla magnificenza dei suoi presepi, realizzati in quasi tre mesi di lavoro, toglie il fiato e lascia il visitatore a bocca aperta. Cinque opere per la precisione che Vito Pepe realizza ogni anno nella sua abitazione di Bari, da quello napoletano, grande quasi quanto una stanza, a quello bonsai, dal presepe nordico alla natività illuminata con lucine calde e soffuse che danno anima ai personaggi della grotta, fino a quello lappone dominato dal bianco che ai più piccoli fa scappare qualche lacrimuccia di commozione. Già di quei paesi sono innamorato, però poi l'effetto che i bambini rimangono ancora molto seria a forza di questo presepe mi fa ancora più contento, ecco perché mi dedico molto a questo tipo di presepe perché comunque almeno io penso che è una novità. Veri gioielli natalizi, opere d'arte uniche, frutto di lavoro e fantasia ma soprattutto amore e grande passione. Osservandoli da vicino si scoprono dettagli particolari senza uguali, il panettiere con il pane vero e il pesci vendolo che vende anche le cozze e poi lo stagnaro, la rotina, l'osteria, la lavandaia e il venditore di vasi. Io sono innamorato di Natale proprio per questa atmosfera natalizia che sono molto innamorato, poi gli amici che mi fanno tanti complimenti, tutte queste persone che vengono, allora mi creano ancora più cariche per poter continuare ancora con altre novità. Grazie all'Antena Sud perché comunque mi fa entrare nelle carte delle persone quindi sono ancora più contento.